Oggi ospite nostro è Stefano Balleari, buongiorno Balleari, che come si presenta alle elezioni europee per i fratelli d'Italia, lei è un carrierista, possiamo definirlo così, cioè lei è stato vice sindaco in comune, quindi esperienza comunale, consigliere regionale, quindi esperienza regionale, salda addirittura al Parlamento e va in Europa, cioè è una carriera notevole, che momento sta vivendo? Ma allora intanto si dimentica di ricordare che ho fatto anche il consigliere comunale e l'ho fatto per dieci anni in opposizione, ma fa parte di una carriera, quando poi ho fatto il vice sindaco ero anche assessore ovviamente e in regione sono capogruppo per una scelta che ho fatto io e che non volevo fare l'assessore, però si è dimenticato che sono stato candidato anche alle politiche, sono stato candidato alle politiche nel 2018, quando il mio partito era ancora un piccolo partito, che tutti cercavamo di far crescere ed quella del 2018 fu una candidatura di servizio, perché poi ovviamente non riuscimmo ad esprimere nessun deputato all'interno della Liguria nel nostro schieramento. Io non sono un carrierista, perché… Ma carrierista in senso buono? No, ma le dico la verità, io avrei continuato a fare il consigliere regionale e anche nel prossimo mandato mi sarei ripresentato perché credo di avere comunque un buon consenso, credo soprattutto di avere un buon ascolto da parte dei cittadini di quello che sono le loro istanze e credo anche di essere riuscito a portare a termine qualche cosa che mi è stato richiesto e pertanto avrei continuato in tal senso, è che mi è stato chiesto proprio da Roma, dal mio partito, dalle figure apicali, da Giorgia Meloni, Francesco Lollobrigi, da Giovanni Donzelli di candidarmi e di rappresentare come unicità la Liguria in Europa e di questo devo dire ne sono stato particolarmente onorato e allora torniamo al punto che il mio è uno spirito di servizio per dare una risposta a questo onore che mi è stato dato di portare avanti la bandiera di Fratelli d'Italia per quanto riguarda la Liguria, convinto di poter fare qualche cosa per il mio territorio. Senta, secondo lei cosa vuol dire oggi essere europeista? Ma essere europeista significa pensare a quello che è stato il sogno di tanti anni fa in cui l'Europa, l'Italia fu una delle protagoniste della fondazione dell'Europa Comune e cercare di mantenere i rapporti saldi fra tutti i paesi ma evidentemente per quanto mi riguarda cercare di portare non la sovranità del nostro paese all'interno dell'Europa ma di mantenere le nostre specificità all'interno dell'Europa. Senta, lei cosa pensa, perché il problema è veramente i nostri candidati Liguri vanno in Europa e parlano giustamente di dare un contributo a favore anche della nostra Liguria, lei cosa pensa di poter dare come contributo e cosa può portare queste elezioni di nostri candidati alla Liguria? Guardi, intanto evidentemente in questo periodo qua mi sono un pochino documentato su quello che possono essere le esigenze del nostro territorio. Una per tutte ad esempio è una cosa alla quale molti non pensano che è l'agricoltura, la nostra agricoltura ad esempio vanta un numero di imprese che è quasi pari a quello della Lombardia, evidentemente si tratta di dimensioni, di aziende di dimensioni assolutamente diverse per appezzamenti di terreni, per personale impiegato, per fatturati raggiunti, ma è un'eccellenza del nostro territorio, un'eccellenza che fa sì che ad esempio a taluni bandi le nostre imprese agricole non possano partecipare se non consorziandosi, ma qua vengono fuori anche alcune caratteristiche della nostra terra che sono quelle di riservatezza, pertanto mettersi in consorzio con altre aziende magari non è proprio nelle nostre corde, allora su questo dovremmo cercare ad esempio in Europa di far crescere dei bandi anche per le imprese più piccole che hanno lo stesso necessità in maniera di tipo diversa da quella ad esempio della vicina Lombardia. Senta Balleari, lei ha la sensazione che questa Europa sia abbastanza critica nei confronti dell'Italia? No, allora io risponderei in una maniera diversa, sino a poco tempo fa l'Italia ha esercitato un ruolo all'interno dell'Europa di mera sudditanza, da un anno e mezzo a questa parte, parlo proprio del governo Meloni che comunque ricordiamo è il primo governo dopo 13 anni eletto dal popolo e grazie agli sacrifici, agli sforzi che ha fatto Giorgia Meloni per cercare di internazionalizzare il nostro paese, ora non soltanto siamo invitati a partecipare ai tavoli a livello europeo, ma addirittura chiedono a noi che cosa pensiamo di determinate iniziative e alcuni altri paesi si stanno accodando alle nostre richieste, pertanto io ritengo come dicevo prima che la posizione dell'Italia non sia semplicemente quella di partecipare tanto per, ma sia quella di portare le istanze anche del nostro paese all'interno dell'Europa e di far sì che tutto ciò che viene fatto in Europa si possa calare in maniera migrata al nostro paese. Senta, lei come vive questo momento dal punto di vista anche umano? Ci sono stati anche ricordi dei famosi suoi manifesti eccetera, cioè lei vive un momento preoccupato o vive un momento invece soddisfatto? Come vive questo momento? Allora, preoccupato assolutamente no, le dicono la verità. No, ma preoccupato nel senso che lei ha 20 anni di esperienza. Sono molto impegnato perché è una campagna elettorale particolarmente difficile, nel senso che abbiamo un territorio enorme perché oltre alla nostra Liguria abbiamo la Lombardia, il Piemonte, la Val d'Aosta e perciò sono molto impegnato. Preoccupato per quello che diceva sul fatto che abbiano imbrattato i manifesti, che l'abbiano strappato. Ma questo è un momento un po' particolare questo? Ma guardi, è un momento particolare perché io ritengo che le opposizioni e pertanto PD, 5 Stelle eccetera eccetera, avendo una scarsità di idee e soprattutto una scarsità di proposte, pensino di infangare l'avversario, ma non mi piace, nel senso a parte che io non li considero avversari, ma li considero dei concorrenti, nel senso che ciascuno dovrebbe portare le proprie idee. Noi portiamo le nostre, loro evidentemente non hanno le loro e cercano di mistificare le nostre dicendo delle cose che non c'entrano a nulla. Ora le dico sinceramente, credo che quantomeno i genovesi nella nostra Liguria sappiano che persona io sia e tacciarmi di essere fascista sinceramente, trovo veramente una cosa incredibile. Il fatto che mi abbiano scritto addirittura che dovrei essere appeso ricordando delle giornate tristissime del nostro paese, mi fa, non dico sorridere perché su queste cose non si può certamente sorridere, ma mi fa pensare che sarebbe meglio che si occupassero dei loro problemi, delle loro scelte, delle loro liste che mi sembra che abbiano dei problemi. Senta Baleari, invece scendiamo un po' sul nostro terreno, è nata adesso in questo periodo la polemica sui consultori, so che l'entrata ormai dei rappresentanti di ProVita è una legge che è uscita, lei mi pare già nel 21, perché la Liguria è già abbastanza avanti in questo campo, come giudica? Perché le contestazioni ci sono moltissime, lei come vede questa scelta, questa decisione. Allora le contestazioni ci sono, esattamente per ciò che le dicevo prima, perché non vogliono capire, fingono di non capire, in realtà noi non abbiamo chiesto la soppressione della legge 194 o cose del genere, noi abbiamo chiesto e abbiamo dichiarato, l'ha fatto in prima persona il nostro premier Giorgia Meloni, che la legge 194 non si tocca, punto. Da lì abbiamo chiesto che la legge 194 venga applicata su tutti gli articoli che la costituiscono, in particolare l'articolo 5 che recita appunto che essendo che, diciamoci la verità, l'aborto non è mai una vittoria per una donna, non è che esistono delle cause che si possono togliere per far sì che la donna possa non abortire, possa decidere di non abortire, perché sulla decisione noi non intendiamo minimamente fare alcun tipo di cambiamento, è che se la decisione è dovuta a cause esterne e possono essere rimovibili dalle istituzioni, noi su questo qua ci siamo. Ma voi le caude le considerate soprattutto economiche? Economiche potrebbero essere anche psicologiche, sociali ad esempio, e questo qua mi porta a far sì che la libertà di una scelta che viene presa in assoluta serenità sia da poter portare avanti. Dove si possono rimuovere le cause, a questo punto le istituzioni devono fare la loro parte cercando di aiutare le donne ad ovviare ad un inconveniente che comunque sicuramente segna tutta la vita. Senta, secondo lei Genova si può definire una città europea? Assolutamente, direi di sì, anzi forse è una delle città italiane più, io non dico solo europea, è multiraziale perché da sempre, da sempre Genova è sempre stata accogliente per la sua portualità, per i suoi spiriti di tipo commerciale, Genova è una città che si pone come città internazionale, lo è sempre stata, lo è stato ai tempi del Medioevo dove arrivavano da tutto il mondo per i commerci, poi soprattutto è una città che e sull'internazionalità ha fatto la propria storia perché mentre alcuni paesi hanno invaso altri paesi, l'Italia accoglieva per i commerci tutti i paesi del mondo. Quindi siamo insomma, siamo un po' europei. Ma assolutamente, siamo internazionali. Internazionali. Un'ultima cosa, da queste elezioni europee secondo lei usciranno degli scenari diversi rispetto a quello che è oggi la situazione politica? Ma io spero di sì, assolutamente. Spero che, diciamo, quelli che in Europa sono i verdi che hanno gestito e hanno influenzato la politica economica, non solo, dell'Unione Europea siano un pochino in fase calante perché loro hanno affrontato i problemi ecologici in una maniera un pochino, direi troppo ideologica, molto poco pragmatica. Vedi le auto elettriche, vedi le case gherain, eccetera. Su questo qua noi dovremmo cercare, speriamo di ottenere una maggioranza più solida di persone più raziocinanti, meno improntate all'ideologia, ma più al pragmatismo. Nel senso, siamo tutti per un miglioramento dell'ambiente, ma il miglioramento dell'ambiente deve essere coniugato con la sostenibilità economica dei Paesi membri. Scendendo invece ai nostri problemi locali e regionali, fra un anno ci sono le regionali? Sì, un anno circa. 25, presumibilmente inizio 26. 26. Ecco, sarete ancora uniti tutti? Come sono le previsioni? Io credo proprio di sì, mi sembra che questa unione di centrodestra stia funzionando benissimo, funziona nei comuni dove governiamo ormai da tanti anni, ad esempio in Regione Liguria ormai sono tanti comuni che governiamo come centrodestra coeso, governiamo la Liguria, governiamo il Paese e spero di poter dire che governeremo anche l'Europa con questa coalizione così unita, perché mi sembra che ci siano ovviamente delle differenze tra i vari partiti che compongono la coalizione, ma lo spirito di avere un'unità di visione sulle cose più importanti sia assolutamente importante e che non ci sia possibilità alcuna di fare delle marze indietro. Quindi auguri, cosa si dice? In bocca al lupo. Preferisco un bocca al lupo. In bocca al lupo. Preferisco un bocca al lupo. Sì, con il Ligure in Europa. Un Ligure in Europa. Questo per i cittadini Liguri è molto importante sapere che ci saranno dei rappresentanti significativi soprattutto che lavorino davvero per la nostra terra. Ma guardi, io ho una storia che dice che ho sempre lavorato per il territorio, credo che i cittadini nonché elettori sappiano capire la differenza tra chi ci è sempre stato prima, durante e dopo. Io c'ero prima, ci sono adesso, spero di esserci anche domani. Bene, buon viaggio Vallenari. Grazie.